ciao da luci allora con oggi apriamo una nuova collaborazione con www.unfilodipassione.it avete già visto nello scorso tutorial io avevo fatto il mio shawl double face con il filato baci rubati che era proprio della mistrico filati marchio che tratta appunto un filo di passione benissimo vi dico che userò sicuramente altri filati e vedete qua già ho degli esempi di filati che possiamo trovare all'interno delle commerce dell'amico alessandro e veramente tutti uno più bello dell'altro questo sarà il protagonista del prossimo tutorial perché l'ho scelto proprio come protagonista di una maglia che farò appunto a breve ma adesso uno a uno ve li presento tutti quindi parliamo proprio del nostro amico a chiapassogni color mistrico filati molto bello allora questo filato sembra un bucle in realtà non lo è perché il bucle sapete che ha dei nodini tutti ravvicinati uno all'altro e che generalmente rendono anche molto difficile la lavorazione all'uncinetto devo dire che questo io farò un progetto proprio all'uncinetto perché non è assolutamente difficile da uncinettare come filato vedete i nodini sono presenti ma sono veramente ogni tanto quindi uno distante dall'altro adesso io tiro su una manciatina di filati guardate è una manciatina di fili guardate allora è molto pelosetto è proprio bello pelosetto e ha questi nodini ogni tanto non sono proprio tutti attaccati come il bucle adesso vi dico la composizione di questo filato allora questo filato vediamo se riesco a ecco qua così lo leggete insieme a me allora è 100 grammi per 280 metri ed ha come ferri consigliati ferri e uncinetto dal 5 e mezzo al 6 io vi dico già che userò il numero 6 il colore è lo 07 che è questo diciamo che va dal glicine a varie sfumature del viola veramente molto bello mi piace moltissimo è molto morbido è molto pelosetto e vi dico la verità non userò particolari lavorazioni perché questo filato secondo me già da solo ha il suo perché non ha bisogno di più di tante lavorazioni perché appunto è già bello così quindi se lo lavorate ai ferri con una semplice maglia rasata già sarà bellissimo se lo lavorate all'uncinetto maglia bassa maglia alta comunque punti molto semplici renderanno comunque il capo già abbastanza ricco quindi non ha necessità di avere chissà quale lavorazione come secondo filato avvicino di nuovo ecco qua abbiamo questo bellissimo si chiama perlina special sempre mistrico filati quasi tutti i filati di cui parlerò oggi a parte uno sono tutti della mistrico filati quindi comunque filati italiani qua dice soft touch e dice anche vediamo una bella scritta una tradizione antica per un crochet moderno devo dire la verità è molto molto bello la particolarità di questo filato adesso avvicino ecco qua guardate sembra quasi un tricottino fa questo bellissimo vedete questa bellissima è molto ritorto molto molto ritorto a me piace moltissimo veramente anche questo sarà un filato che useremo in un prossimo tutorial perché è veramente molto bello oltretutto voi vedete questo gomitolo che è piccolino perché è veramente un gomitolo piccolino rispetto che ne so a questo che è un gomitolone questo è un gomitolo molto molto piccolino ma ma ha una buonissima resa perché allora questo gomitolo è da 100 grammi per 340 metri guardate veramente ha una buonissima resa uncinetto e ferri consigliati qua da dal 4 al 6 però qua me li da si mi dice usa adesso non so se sono uguali comunque secondo me io questo lo lavorerei con un 4 sicuramente con un 4 e dunque è un microfibra è un 100% microfibra molto molto bello vi dico che questo colore è il colore numero 13 nel caso è un bellissimo è un bellissimo color carta da zucchero molto molto bello del filato di prima invece non vi ho detto la composizione vedete che sono stupidotta adesso ve la dico subito così non vi ho detto la composizione questo qui invece era un 35% lana merino 35% acrilico e 30% poliestere perdonatemi la dimenticanza ma tanto questo la chiappa sogni lo rivedremo comunque comunque nel prossimo video quindi vi darò la descrizione dettagliata nel prossimo video invece questo è un 100% microfibra quindi chiedo scusa se salto di pari in frasca ma me l'ero dimenticato e sono cose importanti perché voi non potendoli toccare con mano vi dovete comunque fidare della mia recensione e quindi deve essere il più accurata possibile molto molto soffice molto molto lucido come filato vedete guardate come riflette la luce quindi è un filato molto lucido lo useremo sicuramente in un prossimo tutorial perché mi fa impazzire questo filato quando l'ho visto ho detto io lo devo usare perché è proprio proprio bello eccoci qua con un tocco di colore shock allora quando lì si vede così sembrano tutti i colori shock poi in realtà invece lavorati sono tutta un'altra cosa sembra un po' shock questo mi assicuro che è una colorazione stupenda anche questo va dal viola all'interno e poi c'è un difficile definirlo comunque è un rosa che dà molto sul mattone poi diventa arancione poi diventa giallo veramente molto molto bella questa cakes che si chiama Aurora anch'essa della Mestrico Filati anche essa presa da www.unfilodipassione.it scusate ho la raucidine vi dico subito la sua composizione cerchiamola cerchiamola insieme la sua composizione è qua eccola qua è un come vedete 63% acrilico e un 37% lana ogni cake è da 150 grammi per 600 metri ferri e uncinetto consigliati 3,3 e mezzo è molto simile alla cake che io avevo usato per fare la mia canotta caribien quindi è molto simile al caribe come allora la composizione è totalmente diversa al tatto è totalmente diversa questo è molto più soffice anche perché il caribe era una microfibra cotoniera questa è una microfibra è lana lana misto a microfibra quindi comunque è un filato invernale a differenza del caribe che è più indicato come filato estivo molto molto bella anche questa vedete super volume veramente bella la colorazione mi piace la texture veramente bella è molto bello diciamo la composizione si presenta molto calda anche per dei bei scialli per delle belle sciarpe cappelli ma anche delle maglie dei vestitini insomma si presenta bene si presta bene per varie realizzazioni quindi ve la consiglio caldamente passiamo invece all'amico alicante per me i gomitoli come se fossero amici quindi per me l'amica cake l'amico alicante l'amica aurora adesso appunto l'amico alicante qui presente è sempre anche lui mistrico guardate qua che belle sfumature non avete idea di quanto è sofficioso questo gomitolo guardate qua vediamo se riesco a rendere l'idea di quanto è sofficioso questo gomitolo molto 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 soffice la colorazione è molto bella tutti i prodotti che vi sto facendo vedere comunque sul sito li trovate in più colorazioni queste sono quelle che ho scelto io in questo momento ma ce ne sono veramente molte allora alicante è un 70% acrilico e 30% lana ogni gomitolo è da 100 grammi per 180 metri i fellri e uncinetto consigliati 5-5 e mezzo io penso che anche con il 6 se si vuole una lavorazione più ariosa questo viene benissimo adatto direi da lavorare sia ai ferri che all'uncinetto è leggermente pelosetto vediamo se riesco a avvicinare così vi faccio vedere proprio il filato da vicino vedete è leggermente pelosetto ecco qui è spessino molto molto bello anche questo mi piace vediamo se riesco a farvi vedere vediamo se mi mette a fuoco ecco qua lo mette a fuoco vedete qua si vede la sfumatura come verrà la sfumatura una volta lavorata ovviamente questa è lavorata ai ferri poi dovete tenere presente che lavorati all'uncinetto un po' cambiano vediamo se mi rimette a fuoco benissimo un po' cambiano perché sapete che i filati ai ferri rendono molto di più le loro colorazioni quindi comunque quella è lavorata ai ferri e questa qua non vedo l'ora di sperimentarla all'uncinetto perché veramente mi piace tantissimo sia per composizione sia per morbidezza sia per colorazione la vedo adatta anche per fare dei capi da uomo questa colorazione molto molto maschile quindi un bello scaldacollo una sciarpa dei guanti un maglioncino un gilet insomma qualcosa da uomo un bactus da uomo certamente ci vengono benissimo anche da donna naturalmente però io dico da uomo perché sapete che da uomo è un po' più difficile trovare colorazioni e fantasie cose che siano adatte e insomma alla lavorazione per il maschile ecco qui questa stupenda nuvoletta morbidosa che si chiama tarantella fine guardate che bella allora questo filato è molto particolare questo è un filato che è composto dal filo quindi comunque questo è il filato e poi c'è questa cordicina che tiene il tutto in questo modo e ogni tanto c'è dentro qualche sbuffino vedete qualche sbuffino qualche chiamiamoli fiorellini ecco così tutti pelosetti questo mi piace moltissimo secondo me adatto per fare delle sciarpe delle cose ecco questo non con punti molto lavorati perché comunque già di per sé è un filato molto decorato quindi non ha non necessita di una lavorazione particolare ma semplicemente se all'uncinetto maglia alta maglia bassa quello che decidete se ai ferri una semplice maglia rasata perché di per sé già il filato ha un suo perché non ha necessità di essere molto lavorato quindi anche per le principianti che magari vogliono avere qualcosa di diverso ma non sanno realizzare ancora tantissimi punti con i punti base ci si può già far venire fuori qualcosa di veramente carino allora la composizione di questo filato è un 83% acrilico 10% lana 7% poliestere credo che il poliestere sia questo cordino che tiene il tutto molto molto bello quindi questo qua tarantella sempre mistrico filati questo invece è il monalisa monalisa è un filato che molti conoscono perché forse insieme al baci rubati il monalisa sono i più famosi della mistrico quindi penso di non dirvi niente di nuovo con questo filato trovo che sia molto molto bello trovo che abbia una bella composizione e una bella lavorazione non è un filato molto ritorto però è compatto nel senso che se noi lo apriamo effettivamente vediamo se non aspettate ecco non mi mette a fuoco vedete se noi giriamo fa molto in fretta ad aprirsi il filato però c'è da dire che rimane molto molto compatto anche questo è un filato abbastanza spesso quindi non è un filato sottilissimo anche questo molto bello allora qua mi dà che l'effetto ecco qua vedete merino touch in realtà a me sembra più una ciniglietta più che un merino devo dirvi la verità perché ha proprio questo effetto che io cercavo effettivamente perché la ciniglia non tagliamo un pelino la ciniglia non mi fa impazzire mentre questo ha questo effetto che si è tra la ciniglia e la lana merino quindi direi che è assolutamente bellissimo come effetto a me piace veramente tanto vi dico subito la composizione allora andiamo a scavare dentro nel talloncino allora intanto vi dico che si lavora con i ferri 6 6 e mezzo ferri ed uncinetto e adesso la composizione che è un 100% microfibra questo 50 grammi sono 100 metri in questo bellissimo colorazione che è il numero la colorazione è il numero 8 è un senape veramente molto molto bello penso che anche questo filato lo vedremo in uno dei prossimi tutorial adesso non vi dico che ve li userò tutti subito ma sicuramente li userò questi filati perché sono veramente belli veramente veramente belli mi piacciono tantissimo ora passiamo a questo filato che è l'unico che non è della mistrico filati tra le mie presentazioni di oggi allora questo qua c'è scritto allora qua da gomitoli enco ed è dice by BBB alpaca 70 il lungo filo della qualità sempre made in italy molto molto bello guardate questo filato è leggermente pelosetto molto veramente soffice e vi dico subito che il colore è un rosa antico e qua mi da numero 5 nel caso qualcuno possa interessare voglia lo stesso colore almeno vi dico che colore è ed è un 70% alpaca 20% lana 10% acrilico quindi ha una concentrazione di lana altissima e infatti lo vedete anche dal filato vedete che non è molto lucido la pura lana in questo caso un 10% di acrilico ma comunque la pura lana in generale non ha non ha molta lucidità perché non si può trattare più di tanto la lana in quanto se no andrebbe in nulla i ferri consigliati qua mi da 4 e 5 secondo me questo anche un 6 devo dire la verità perché guardate adesso ve lo faccio vedere da vicino vedete è abbastanza grossino come filato quindi secondo me anche un 6 va benissimo questo gomitolo è da 50 grammi per 80 metri quindi non ha una resa altissima ma di solito i filati grossi generalmente a meno che non siano gomitoloni di queste dimensioni non hanno diciamo una metratura molto ampia devo dire però che questo filato merita veramente tanto vi volevo solo spiegare una cosa mi avete chiesto in passato che cos'è il bagno adesso vi spiego che cos'è il bagno il bagno non è altro che vedete qua c'è il colore e qua c'è il bagno il bagno o l'otto si riferisce a quando è stato colorato il filato quindi se voi comprate più gomitoli dovete fare una maglia dovete accertarvi il colore vabbè lo vedete anche a vista cioè a occhio vedete se il colore è uguale oppure no ma se dovete fare una maglia il riferimento che dovete tenere a cui dovete far più attenzione è proprio il bagno perché perché significa letteralmente che il filato per essere colorato è finito nel medesimo bagno quindi i filati vengono colorati per immersione nel liquido vuol dire che tutti tutti i filati che avranno lo stesso numero di bagno saranno finiti contemporaneamente nel colore quindi siete sicuri che la colorazione è identica da gomitolo a gomitolo per quello io a volte vi dico comprate piuttosto un gomitolo in più se dovete fare qualcosa di grosso ma non uno in meno perché il gomitolo in meno se non riuscite a finire il lavoro col filato che avete comprato potrebbe essere un problema perché potreste non trovare lo stesso bagno e quindi avere sempre il rosa che si chiamerà 5 ma potrebbe essere non il bagno 10 ma il bagno 7 12 14 adesso io non so quante vasche faranno per lo stesso colore ma potrebbe esserci una minima differenza tra questo gomitolo che avete comprato prima e il gomitolo che state andando a comprare quindi le cose sono due quando state per finire un lavoro ma avete finito il filato o vi portate il gomitolo o il lavoro già iniziato tenete sempre fino a fine lavoro il talloncino perché è il riferimento per il bagno e chiedete al negoziante se ha lo stesso bagno ora potrebbe essere che il negoziante non abbia ancora venduto tutto il lotto dal quale ha tirato fuori i vostri gomitoli e potrebbe averlo se non ce l'ha dovrete avere tra virgolette fortuna a trovare una cosa con una differenza non visibile perché a volte non è visibile a volte purtroppo si vede la differenza e quindi in quel caso dovrete decidere se finire il lavoro con lo stesso colore oppure per non avere proprio lo scalino di gradazione che si vede decidere di finire il vostro lavoro con un lavoro con un'altra colorazione perché a volte appunto mettere due filati vicini dello stesso colore ma con un bagno diverso viene veramente più brutto che cambiare colore quindi questa è una specifica che ho voluto farvi perché mi era già stato chiesto che cos'era il bagno è molto importante il bagno se fate un lavoro grande e soprattutto se comprate dei gomitoli per fare un lavoro grande accertatevi che tutti abbiano lo stesso bagno mi raccomando perché se no rischiate che si veda la differenza se non è lo stesso bagno perché il venditore non ha i gomitoli tutti della stessa partita poco male prendeteli misti e alternateli di modo che ci sia un gomitolo di un bagno un gomitolo di un altro un'altra volta il gomitolo di un bagno un'altra volta il gomitolo di un altro di modo che piuttosto risulti leggermente rigato il colore ma quantomeno che abbia una logica perché diciamo che iniziare tutto il lavoro con un colore e poi avere lo stesso colore ma leggermente più scuro leggermente più chiaro a volte fa sembrare il lavoro non bellissimo quindi mi raccomando la cosa più importante non è il colore ma il bagno anche perché ripeto il colore è visibile ad occhio il bagno può essere che non lo vediate subito ma a fine lavorazione vi rendiate conto che effettivamente il colore non coincide pienamente e magari poi il risultato non vi piace tanto benissimo io rimetto qua tutti i miei bei gomitoli guardate qua quanti sono non ho più qua purtroppo il baci rubati per farvelo vedere ma potete trovarlo tranquillamente sul sul tutorial il link del baci rubati potete trovarlo tranquillamente sul tutorial del come si dice del mio chalet double face andate a vederlo tra l'altro che è molto molto bello quindi io saluto il mio amico Alessandro che mi ha mandato tutti questi bei gomitoli vi invito a dare un'occhiatina allo shop un filo di passione molto molto bello ci sono questi filati e molti altri che vi presenterò poi prossimamente io vi mando un grosso bacio venite a trovarmi sul gruppo facebook creando con luci e franci un bacione grande ciao ciao da luci